Dopo due anni, finalmente sto trailer! Non mi prolungo, voglio soltanto dirvi una cosa sola Perché ho letto il titolo, non ho visto niente su Instagram Per un'intera giornata non ho toccato i social Ma Toys for Bob, siete pazzi a chiamare il gioco Crash Team Rumble CTR? Che gioco è Crash Team Racing! 3, 2, 1... Why? Grafica Oh, sembra... Casse nuove? Oddio No, vabbè, ma fantastico. Vabbè, ma non pensa se è la grafica del gioco, sennò cazzina Bello Interessante che i voli possino anche... I'm a real game Minchia, interessantissimo Gameplay catturato da PS5, allora è proprio... Che figata, chissà se Catbat, come si chiama lei, è buona o cattiva Sì, ma lo sto riguardando perché è da riguardare, cazzo, sembro un film Porca troia Bellissimo Grafica migliorata In un modo... Wow Tre più, però interessante ci sono pure casse nuove Che cazza è questa? Bell'imbrio che si era fatto la del braccio, non l'avevo mica notato Non capisco Che cacchio? Ma è un frigorifero che è caduto? Le reliquie Quindi sono tipo da prendere... Boh Hanno un coso strano Ci sono un sacco di reliquie da prendere anche, quindi... Boh Il nemico del coso preistorico Il cinghiale Boh Madonna Ho buttato proprio... Bella sta... sta parte mi piace un sacco Sì, credo che più frutti wumpa prendi e più... E più fai vincere la squadra insomma Bello, bello, però Aspetta Sì, 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 per forza Bello, 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 veramente PS4 Grazie a Dio Bello, veramente Mi piace Questo poco che ci hanno fatto vedere perché è pochissimo Non hanno fatto vedere quasi niente, devo dire Ma questo poco è anche tanto, quindi... Bello! Non vedo l'ora di vedere più cose in realtà perché è poco questo Perché sì, ok, ci sono i personaggi Raccogli i frutti wumpa Ma alla fine non è solo questo Sì, c'è un membrio che butta... Cortex, come... Non lo so, tipo un meme, sembra quasi Però... Figata Figata anche sta cosa qua di... Di Dingodal che ci mostra che tipo fa un attacco speciale No, bello, bello, veramente Mi piace Coming 2023 Non si sa in quale mese Non si sa... Quando, però... Dai, finalmente Ci volevo sto tre Finalmente Va bene Crash Team Rumble Suonava meglio Crash Wumpa League Però, vabbè CTR, poi alla fine così Sono pazzi Ma che fate, CTR Forse vi aspettavate una reazione più... Happy Sono stanco Dall'Accademia Sorry Però mi è piaciuto ver davvero Niente, che vi devo dire Eeeh... Fine Ah, comunque mi sono sbarbato, lo sei visto? Eeeh... Eeeh...